Invece devo ingoiare Deve ingoiare? Sì Questa la lascio Chiara ingoia Allora Iniziamo questo bellissimo video di Kitty su Roblox E amici fate play Allora oggi volevo provare la modalità di Kitty Perché l'avevo visto anche da altri youtuber E io copio come mi scrivete sempre Quindi adesso copio E facciamo house ovviamente Perché non abbiamo fatto Niente Esatto non abbiamo mai giocato a Kitty quindi adesso vediamo Chi è? Allora facciamo ovviamente player Ok Perché sennò poi dopo il voto ci fa il sedere E io non posso disegnarvi Allora come al solito voi sapete Le regole mai io prima Perché se no se vengo io prima poi dopo che cosa Vedo gli altri E beh adesso però io sono il mostriciattolo E adesso mi infilerò Nei vostri Mi intruvolerò nei vostri sederi Nei vostri sederi bui O scuri proprio larghi Avete presente Ok C'è il mio gatto che sta facendo tipo Oh Ok però mi posso muovere perfetto Iniziamo voi siete addormentati come al solito Addormentati ma tu sei addormentato Oh no Non ho usato Che c'è qua ma come si fa ad uccidere scusa Gabri No Ti ho visto Vabbè vi lascerò un po' più di tempo perché E' stata vai 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 fate 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 perché Sennò poi dopo Sennò poi dopo mi dite Mi hai già preso Mi hai già preso Guarda come fa questo gatto Mi hai già preso Mi hai già preso No 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 Mi stai venendo addosso vero E' perché sono caduta Ah sei caduta Gabri Ciao Cosa sta facendo Gabri Io ho questo coso Che ci devo fare con questo coso E' No 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 Allora Allora Come vi ho detto di parlare nei video Spiegate No Spiegate cosa Non rivolgetevi No ma io No lui no Allora Ehm Dove siete ditemi Eh buh Non lo so dove siamo Brutti trogloditi delle caverne Ah Ho aperto qualcosa Ho aperto qualcosa Ho aperto qualcosa Ma non mi sentite Mannaggia a te Gabri Alla foca Eh Non stai parlando Cosa ti ho detto Si sto parlando adesso No No Vieni qua Gabri Io voglio solucidere Gabri Perché non parla Così almeno non parla più veramente No no sta parlando adesso Dennis Ok allora parla bene Mi raccomando Eh parlo bene adesso Ok tu chi sei tu Questo con il coso Io Troppo tardi No Ti ho dato una Eh Gabri 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 No 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 Eh No Mi sono chiuso da solo Vieni qua Brutto No non arrivo No mi sono addormentato Eh mi dispiace Ma che razza di gatto idiota è questo scusami Eh mi dispiace Dennis Sei sonno Non so cioè non è normale che una persona Cioè che un gatto Si che è addormento Rincorre un topo E si diciamo si addormenti Di solito non succede questo Si che è normale La cosa più normale che ho visto Cioè Ah dici Cioè tu Eh Tu quindi sei sempre Non lo so Rincorso dai trogloditi No Cosa Che sono gli abitanti delle caverne Trogloditi Eh gli abitanti delle caverne Vieni qua Brutto Troglodita No Gabri Cattivo No ma come hai fatto a vedermi No Dennis Io posso Caro Gabri No non sono spawnato lì Io ti seguo fidati Ti seguo Io so dove sei Io so dove sono le tue Le tue cappette Grazie Ah 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 Eccolo qua Ma vieni ma vieni No allora se ti infili nei buchi Poi dopo ti rinfilo io Non so dove non batti Vieni qua Eh Allora però se facciamo così Possiamo fare così fino a domani Oh bravo Gabri Così sei bravo Così sei bravo Eh vedi che sono bravo Sì sì sei molto bravo 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 Visto che sei bravo ti lascerò scappare Ora ti riprendo basta Ti riprendo ora basta Però sei stato molto bravo Ti ho lasciato scappare Eh sì perché Mamma mia Mamma mia Vieni qua Bello bello Questo è stato un round Molto succulento Succuloso Bello bello Fate play Non è vero No come non è vero È verissimo è verissimo Allora adesso Probabilmente arriverò io Quindi Tu Chiara O Gabri Insomma chi sarà con me Dovrai Dovrete insomma Dirmi Cioè dirmi Farmi vedere le cose che fate No ovviamente Quindi Su figlia Cerchiamo È logica È logica È logica È logica Cioè Non mi pare Eh sì Ma adesso Parliamo del mio Della sponsorizzazione Al burro cacao Visto che non so Ma sei di nuovo te Dennis Di nuovo io Ma che due Pippole No vabbè vabbè Bello 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 fare il mostro Mamma mia Adesso vi rifaccio No non è per niente bello No non è per niente bello Dennis Come non è per niente bello Bellissimo Io sono di nuovo slip per 10 secondi Però adesso vi fate prendere velocemente Perché io non sono qua a farvi da servetto a voi A farvi da gatto Cosa Non sono qua a fare da servetto a nessuno Ma poi perché Eh Dennis mi dispiace Cioè sai però Eh ti dispiace Ti dispiace però Vedo che non ti dispiace parlare a bassa voce Brutto troglodita No ma non sto parlando a bassa voce Sto parlando ad alta voce Ora infatti stai parlando più ad alta voce Ah ah Bruttacciota Bruttacciotorito ruota Sei la prima ragazza che parla a bassa voce No no Eh dov'è No ora sta parlando più ad alta voce Ora sta parlando Ha salito le scale Ha salito le scale La grammatica di Chiara Eh Esatto Chiara non sa parlare Ti picchio Ha Brutto Bruttacciota Sotturuta Sotturuta Beh ma stai qua Cioè io veramente Chiara Cioè stai là davanti alla porta Fai te Non so Adesso tocca a Gabri Ah 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 Interessante E Gabri dove sei? Non ho tutto il tempo Non ho tutto il tempo Per fare Le 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 Vostri I vostri comodi Brutti Non so più parlare Eh sì Brutti Trogloditi No Ah 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 Intuivo Io intuivo bene Caro Gabri Io intuivo bene No Sì 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 Adesso Io intuisco Gabri scoperto Ma Chiara è sempre la prima a essere presa Cioè io sono scioccato Sì sì mi puoi liberare comunque Eh allora allora Devi trovare un oggetto tipo Sì puoi liberare esatto puoi liberare è Chiara Gabri Però Eh io che ne sapevo Però non puoi non puoi liberarla comunque perché io non ti do il permesso Perché adesso ti devi far prendere Ford Vieni qua No 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 Sì sì No no Eh yes Bene bravi 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 Adesso io spero di non uscire di nuovo Perché se no poi dopo facciamo vedere tutto il tempo che io faccio il mostro Spero di non essere io Eh 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 Spero di non essere io Ma come spero Perché non sono brava Ah no 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 Provate ad essere bravi perché se no vi 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 troglodisco io Non so cosa sto dicendo Cosa Comunque vedete io No Dedi Ah faccio così parlo senza naso Avete sentito io sono incredibilmente bravo a parlare Eh mi spiace Ok Gabri se tu trovi qualcosa ora mi devi far vedere a me personalmente Eh Ok Davvero Ziani e se trovate qualcosa mi dovete far vedere E ovviamente Chiara prima devi prendere Gabri Mi raccomando Ok Questa dice cos'è stato quello Oh no Ah 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 Sta arrivando Sta ridi così Ride così Poi ci fa Aiuta Ma dove la sta portando scusate È un po' inquietante questo gatto Ma vorrei che facesse cos'è Si Trò Pinky Pinky dice il topino Oh no Kitty Di nuovo dice Aiuto Cosa sta Cioè scusate Non Aiuto Cioè io sto Per chi non l'avesse capito Sto cercando no Di far Di tradurre la storia Però qua Allora Pinky Devi trovare Insomma devi far uscire Pinky Dice in sostanza Liberiamo Pinky E scappiamo via Da questa casa Topesca Gattesca anzi Gabri Dove sei Dove sei Ah no Sono io Sono io Sono io brutta Troglodita Delle caverne antiche Vai via Troglodita Allora Adesso cerchiamo Intrufoliamoci Nei posti più antichi Antiquati Anticostroccioli Del mondo Visto che siamo top Anticostroccioli Cosa Sì sì Chiara Sì Chiara Anticostroccioli Visto che siamo Aha Ho trovato una cosa Eh E tu Eh Chiara sono io Sulle scavoli No Però c'è anche Gabri Tu Vabbè Perché Se prendi Gabri prima Gabri non farti prendere Perché poi dopo Può prendere me Capito Eh 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 Non è una cosa carina Ma io posso fare una bella cosina Cos'è che puoi fare Chiara Lo so io No Non parla No La brutta La brutta La brutta Eh Cosa ho trovato qua No Denis Cosa Cosa Gabri Come stai stanno Andando Eh Sono io Vai via Vai via Vai via Puzzi No c'è Chiara C'è Chiara Eh c'è Gabri No no C'è Chiara Gabri Gabri Chiara Attenzione Mi raccomando Mi raccomando Però voi adesso state Però posso muovermi In che senso puoi muoverti Ah Perché prima eri bloccata No Eh Beh Puzzi Chiara No 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 Ma io non so come arrivare Ragazzi Come si trovano gli oggetti In questo gioco Ho aperto una porta Denis Hai aperto Che porta Anch'io l'ho deciso No aspetta Cos'è questa cosa Cos'è che hai Che schifo Ho messo la trappola Che schifo Aspetta Faccio io Faccio io Faccio io Così almeno Non può capito Eh vai Gabri Cos'è che Cos'è che serve In quella porta Chiara Tutta in zitta Chiara Tutta in zitta Perché Chiara No lo vuole ammazzare Allora silenzio Se non ci sei nel video Mi raccomando silenzio Allora Gabri tu Fai Non lo so Tu scappa come al solito E Sono io Sono io Chiara Quello con il coso Verde sono io Quello che sta scappando da te In questo momento E adesso Ma chiara è caduta Esatto Esatto È caduta perché Gabri sei attento Mi raccomando Ma dove è che hai Aperto la porta No 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 Mi vuole prendere Mi vuole prendere No No Gabri No 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 Vai via Vai via Se mi prendi me Madonna No 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 Gabri No No aiuto Non so Aiuto Chiara vai via Puzzi E fai schifo Esatto Hai ragione Denis C'è Chiara lì Che è schifo Ho trovato una cosa Però Vai via Sei trovato No vai via Dai No Va bene Ok hai vinto Brava Brava Lo so Che schifo Modestamente Modestamente Eh beh Ma è difficile Devo dire fare il topo Sì esatto Eh a meno che non facciamo in più persone Però sapete un po' Ci sono delle persone Che sarebbe più bella un'altra modalità No no Innanzitutto parla forte Uno L'avete apposta A basso E due E no hai fatto male E due E un'altra modalità Magari la faremo Fateci sapere se volete fare Piggy Perché è quella che vuole lei Vero Chiara? Sì Lo so ma Piggy è molto bello Perché noi ci giochiamo spesso a Piggy Diciamo da persone Però Cioè capito Sì da persone Perché adesso cosa siamo No adesso siamo robot Ok Noi ci trasformiamo Ah che bello Sì 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 Noi avevamo un compito preciso Eh Allora Sì ce l'ho di nuovo io Ok Adesso tu Ed io Chiara Adesso collaboreremo Per aprire tutte le stanze Mi raccomando Gabri Non ci devi scassare le scatole Mi raccomando Se vuoi Io sono il mostro Eh esatto Sei tu Perfetto Sono stato molto attento Tunisiani come vedete Sì esatto Cioè se non è attento Dele Cioè siamo promessi bene Allora Gabri Adesso però Io e te Cercheremo di aprire le porte Va bene? Esatto Sono Denis Ok esatto Com'è che sei Gabri Sentiamo Sveglio Un po' di più Com'è che sei? Sveglio No così non sei sveglio E te lo faccio dire Finché non sei sveglio Mannaggia te Com'è che sei? Sveglio Un po' di più? Sveglio Però No Senza mettere quel sveglio Nella voce Tu sei sveglio Sveglio Potremmo andare avanti Così fino a domani mattina Chiara Puzzi Fai schifo Vai via No Aiuto Ok No vai via Paura 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 vai via Allora E come che schifo Io so saltare Gabri Attenta Attento C'è Chiara 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 Attento 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 Sì sì C'è Pig Vabbè c'è Chiara C'è Kitty C'è Kitty Sì c'è Kitty Sono Kitty Ma lei è un gatto in realtà Quindi c'è Possiamo dire C'è il gatto C'è il proccione Sì il proccione Il proccione e il gatto Non è la stessa cosa Ma fai finta di sì Allora Scusa io sarei in proccione Sì Hai ragione Anzi una puzzola Ti scusi C'è il proccione aiuto Però sono scappato Il proccione è sotto Il proccione è sotto Chi è scappato No mi sono addormentata La ciotta che si è addormentata Il proccione è addormentata C'è grave Una ciotta che torna Chi è che sta salendo le scale Ah boh Io non sono Ebbè chissà chi è Chissà chi è Una foca grassa Però io intanto Sto trovando oggetti Cari miei tunisiani Gabri fai schifo C'è stato un momento Di silenzio Che è stato molto brutto Perché pensavo fosse qua Il proccione No No è qua È qua È qua È beh beh Stai attento alle chiappette Gabri No Chiara Quante Quante trappole hai messo Chiara Tutte Eh beh Tu si che sei Una bella Chiara Chiara Ah ma se No scusami Hai preso Gabri Sì Aiuto Dunisiani abbiamo bisogno Del vostro aiuto Scrivete Scrivete Aiuto Dunis Nei commenti Vai Adesso vedrete che non ci prende Chiara Vero che non ci prende Eh sì perché adesso c'è l'aiuto Di dunis Dei dunisiani Insomma no Cioè porca misera Adesso porca misera Spacco i sederi A tutti Dai forza Ok 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 Va bene Cos'era Che sto pensendo Allora non fatemi ridere perché Eh Chiara fai schifo Perché metti le trappole Sei un proccione Adesso Chiara Un proccione Adesso Chiara Scrivete nei commenti Chiara è un proccione Chiara è un proccione esatto Chiara è un grande proccione Grosso che scurreggia Tutto il giorno Non mi chiamo Dennis Ah ah Oh come ti perventi Ma se guardate Oh comunque Non sto trovando Il lucchetto azzurro Dove caspita è Questo lucchetto azzurro Mi sto Innervosendo Eh Ma sei inserito No affatto Chi Cosa te lo fa pensare Ma Dimmi dimmi Cosa ti fa Istinto Istinto dici eh Ah ho trovato un qualcosa qua Ciao No c'è Chiara Che schifo Chiara che schifo No Mi dispiace Si è addormentata Adesso Adesso apriremo Adesso apriremo una cave Adesso Gabri Se trovo qualcosa Ti libero Però Adesso apro No Però mi serve anche Anche un qualcosa Che non ho in questo momento Chiara Vai via Allora Porca misera No Non fatemi Non fatemi vedere queste Queste trogloditudine Ah No 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 Chiara Fai schifo Fai schifo Fai schifo Fai schifo Oddio Fai schifo Fai schifo Fai schifo Fai schifo Stai attento Denis Eh lo so La vedo La vedo Che sta dietro di me Che cerca di colpire Lo so Lo so Bruttarin citrullita Procione Vai via Allora Non ho Chiara 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 Io ti voglio bene In realtà ti odio Io no In realtà ti odio Perché sei un procione Da oggi in poi Chiara Is the new procione Vai via Vai via Ci sono troppi momenti di silenzio Questa cosa non va bene Mannaggia le vostre Ciappette Eh Allora Le ciappette Sì Sì Però io stavo facendo avanti e indietro E non sto trovando niente Dunisiani Ma sei uscito da quella stanza Da quale stanza Quella dove ti avevo rinchiuso Sì Che schifo Non me ne sono accorta Eh esatto Che schifo Veramente Che schifo Sì esatto C'è che schifo Dai vai via Puzzi come Una scrofa No come una scrofa Vai via Sì una scrofa Grazie Denis Eh no scherzo Ti voglio bene Allora Eh sì sì Tutti qua ti dicono così Vabbè dai prendimi perché Ok Eh appunto Perché se io non so come aprirle cose Non so come aprirle le cose Sono comunque tunisiani Fatti Sono io la vostra esperta Questo video esatto Questo video finisce qui Fateci sapere se volete Sì 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 Fateci sapere se volete vedere altri video in italiano E soprattutto di Kiki In italiano Sì 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 Quello è importante da sapere Perché magari Volete che io parli in cinese Io parlo in cinese come volete voi In cinese Però insomma scrivete nei commenti Evidenziatore blu Se siete arrivati fino a questo appunto del video Così vi metterò il cuoricino E vi scriverò Bravo Cuoricino Portami il vicino Cosa Tenis No vabbè Fate vinta che non l'abbia detto Comunque Hashtag cuoricino Portami il vicino Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Ciao